Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Michele, che mi chiede di parlare del film del 1938 di Alfred Hitchcock, La signora scompare. Per esempio particolare di Hitchcock, inglese, non sapeva che cosa trovare, a quanto pare lesse questo libro da cui è tratto appunto il film, e a quanto pare non sapendo dove andare a sbattere, anche glielo consigliarono, non trovava una sceneggiatura. Trovava questa sceneggiatura ed era molto contenta, una sceneggiatura ironica secondo lui, e in effetti gradevole. Non è uno dei film capolavoro secondo me di Hitchcock, ma è un grande film come sempre con Hitchcock e con i suoi sistemi di ripresa, che in questo film vengono amplificati appunto quando loro parlano dei bicchieri, che i bicchieri sono molto importanti, comincio ad utilizzare bicchieroni enormi per dare il senso appunto della profondità e del cambio, come poi utilizzerà tutti questi sistemi più avanti. Ma è un film che insomma mescola appunto il giallo, lo spionaggio e questa volta anche una presa di posizione politica, perché il film è aumentato nel 1937 ed è un film che già intuisce il fatto che Hitchcock era per l'interventismo inglese contro i nazisti. Ma detto questo, la storia appunto è quella di Iris Anderson, perfettamente rappresentata da Margaret Lockwood, che sta facendo un viaggio sui Balcani col treno, nel quale incontra una donna anziana con la quale chiacchera tranquillamente, poi a un certo punto però ha anche dei batti becchi con un giovane studioso di musiche popolari, Gilbert Redman, che è il grandissimo Michael Redgrave, e insomma dopo tutto questo la nostra non trova più questa signora anziana, chiede e tutti però nel treno gli dicono che presente non è mai esistita, quindi la nostra incomincia a vivere in questa confusione completa di non capire perché tutti gli altri gli dicono che non è esistito qualcosa, che per lei è chiaramente lì, quindi la sua confusione ha paura di essere diventata pazza e poi in realtà un intrigo, chissà chi c'è all'interno di questo treno, cosa sta succedendo, perché le persone scompaiono e chi era davvero questa signora anziana e via dicendo, per un film che parte diciamo in maniera quasi da commedia e drammatica, poi diventa sempre più un thriller, trasformandosi in un giallo che poi sfocia appunto nello spionistico e il nostro porterà avanti un certo tipo di angosce, come quella di non sapere praticamente dove essere, cosa, perché, come, in Intrigo Internazionale o altri suoi film, ma qui già in luce c'era già tanto di quello che verrà fuori poi nello Ditchcock maggiore degli anni 40 e 50, diciamo, e la sua ironia ha un certo tipo di voglia di sdrammatizzare determinate cose che poi in futuro diventeranno ancora migliori perché diventerà il suo cinismo, aumenterà e si unirà appunto a un'ironia ancora più riuscita, ma qui bisogna dire subito che la fotografia Jake Cox ha un bianco e nero straordinario, come ripeto gli attori sono uno più bravo dell'altro e il ritmo è formidabile, è uno dei classici film che Hitchcock amava in realtà nella sua filmografia proprio perché aveva una voglia proprio di girarlo, si vede che è un film insomma con un gran ritmo grazie al montaggio di Er Hey Daring e il tutto monta sempre di più con le musiche di Lewis Lewis e Charles Wilson che incornigiano questo film, ripeto, modernissimo in realtà, del quale negli anni 70 è stato fatto un remake, gradevole anche quello, ma gli mancava la mano di Hitchcock che qui comunque porta avanti il tutto tramite una messa in scena veramente originalissima, all'interno appunto di un solo treno praticamente, il film è tutto all'interno di questo treno, che è tutto ricostruito nei teatri di pose, è veramente fantastico come riesce a gestire i tempi, gli spazi, in modo assolutamente unico, totale, che poi porterà appunto a quei capolavori come Dola dalla gola o la finestra sul cortile o via dicendo, qui è un film un'altra volta che riflette comunque sulla condizione umana, sulla falsità, sulla realtà, su che cos'è il doppio, su che cosa in realtà riesce a nascondere l'animo umano, cos'è l'amore, che cos'è la sofferenza e in questo caso, ripeto, è un film anche politico, che è una cosa abbastanza strana, pelicico, che di solito non le prende mai di petto, se non appunto in quel filmaccio contro Cuba che neanche voleva fare, questo però è un film che vive appunto nella sua epoca, è del 38, è ambientato nel 37 e riesce a farci entrare un'altra volta nella grandezità di un regista che ha invenzioni di movimenti di macchina, di carrelli, appunto invenzioni visive per farci rendere anche con la macchina da presa, la sceneggiatura senza utilizzare eccessi appunto di classici dialoghi che in realtà poi rendono il tutto veramente inutile, quindi per me questo La Signora Scompare è sicuramente uno dei film essenziali di Hitchcock, da vedere assolutamente per la sua crescita, non è probabilmente uno dei suoi capolavori totali, ma resta il fatto che Hitchcock comunque, ripeto, film da buttare, tranne un paio dell'inizio, uno buttato un po' a caso non ce n'è, Hitchcock era un genio, uno dei migliori registri di tutti i tempi, il maestro, il totale maestrone, il totalone, che anche qui insomma porta a casa, un film che piano piano diventa sempre più interessante, proprio anche per come è girato, per come viene utilizzato appunto le musiche, per come è messo in scena, con una idea sempre più forte che la macchina da presa a volte si debba sostituire a dei dialoghi che comunque sono scritti benissimo. Quindi che dirvi di più, ripeto, un film che parte in un modo, finisce verso l'azione e che mette un po' d'accordo tutti sul fatto che Hitchcock già all'epoca fosse un genietto, il link è qua sotto, donate il tuo patrio, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie sulla striscia per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, questa è la signora a scompare, è e rimane un caltone, un classico totale, un film che su memoria, che riguarda sempre volentieri, riguardo anche remake, anche se non è a questi livelli, perché comunque è un discreto film, ma qui insomma Hitchcock stava macinando, 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 si stava avvicinando sempre di più ai suoi capolavori, sempre più importanti. A voi comunque vedervelo, perché comunque resta per me un film imperdibile.